Si vestono di viola le parrocchie durante i 40 giorni che precedono la Pasqua, un colore che contraddistingue il tempo di attesa, la notte che precede il giorno e il buio che lascia lo spazio alla luce del Cristo risorto. Il periodo della Quaresima è caratterizzato da diversi segni che nascondono a loro volta dei significati, come nel caso delle ceneri. Io penso che il segno della cenere sia un segno molto forte. Secondo me ricorda due dimensioni. La prima è la dimensione della fragilità. Siamo fatti di terra, siamo piccoli dinanzi alla immensità dell'universo e della storia dell'umanità. Eppure questa nostra fragilità, questa nostra debolezza è abitata dallo Spirito di Dio. Così, dal libro della Genesi, quell'uomo fatto di fango riceve il soffio di Dio che gli dà la vita. Quindi la cenere ci ricorda questa prima dimensione, ma ce n'è un'altra anche interessante. Il mercoledì delle ceneri introduce un tempo, come abbiamo già detto, che poi è il tempo della luce, dove la notte della Santa Pasqua si accende il bracere, si accende il fuoco nuovo e da questo fuoco nuovo si accende anche il cero pasquale. Certamente ci sono questi segni di gioia, di riconciliazione, di pace. Le palme, gli ulivi indicano l'ingresso del Dio con noi, dell'Emmanuele a Gerusalemme. Un ingresso gioioso, un ingresso festoso. Ma questi segni hanno sempre rappresentato anche per tutti, e in particolare per noi cristiani, segni appunto di riconciliazione. Durante i venerdì nelle parrocchie si svolge la Via Crucis e i credenti vengono chiamati a fare delle rinunce, come l'assinenza delle carni, ad esempio, sempre il venerdì, o a momenti di digiuno, pensando non soltanto al cibo, ma anche alle cose materiali. Che forse servono all'uomo per riscoprire ciò che è essenziale, in una realtà, in un mondo come quello in cui viviamo, in cui tante volte, non sempre, ma tante volte, siamo sopraffatti dal superfluo. C'è un forte invito a riscoprire ciò che è davvero utile per la nostra vita, per il nostro presente, per il nostro futuro e per il nostro spirito. E d'altro canto c'è, accanto a questo invito a riscoprire ciò che è essenziale, in questo tempo c'è un forte invito alla solidarietà, o direi cristianamente, alla carità. Non basta fare delle rinunzie, ma bisogna fare delle azioni di bene, fare delle azioni di bene. Non basta togliere il male, bisogna potenziare il bene. Attraverso piccoli segni, il Signore non chiede grandi cose, ma se tutti riusciamo a fare dei piccoli passi nella via dell'amore, sicuramente il mondo migliorerà e si trasformerà secondo la volontà di Dio.